3 o 4? Facciamo 3 e vediamo come va. Possiamo riempire gli spazi vuoti man mano. Mi chiamo Gabe, ho 45 anni e sono di Mesa, in Arizona, e questo è il mio amico. Il mio amico si trova, ecco, appena sopra la clavicola. Convivo con questa protuberanza da circa 9 anni. Lavoro in un vivaio. L'ho notato per la prima volta mentre stavo accatastando dei pallet. È comparso dal nulla. Il giorno dopo sono andato a farlo vedere. Mi hanno detto che è un lipoma. La dottoressa ha detto che voleva che consultassi un chirurgo. Ho il terrore degli interventi. Non voglio essere sottoposto ad anestesia. Mi fa troppa paura. Ho paura di quello che potrebbe fare il medico. Tutto bene? Di solito, quando prendo una botta, sento una forte fitta che mi si irradia lungo il braccio e a volte mi fa cadere le cose di mano. Non riesco a prenderli tutti. Perché hai quell'enorme palla che ti spunta dal collo. Ho una famiglia a cui provvedere. E se non riuscissi più a fare il mio lavoro, sarebbe, beh, un bel guaio. Io passo la maggior parte della giornata al volante. Quando devo salire su un veicolo e mettermi alla guida, devo sempre fare attenzione per evitare di farmi male. Ecco, quando mi siedo, devo abbassare la testa, altrimenti sbatto. E così sento la fitta al braccio. Devo assicurarmi di entrare sempre abbassando la testa quando mi metto al volante. Guido guardando sempre a sinistra. Ho pochissima visibilità a destra. Non vedo praticamente nulla a causa del lipoma. E questo ovviamente mi provoca non pochi problemi alla guida, che è una delle attività che faccio più spesso. Devo girare moltissimo il collo per essere sicuro di vedere bene. Alla fine potrebbe impedirmi di guidare. E sarebbe un disastro. In questi nove anni ho dovuto imparare a fare le cose in modo diverso. Ho difficoltà a raggiungere i ripiani alti dei pensili, perché non riesco ad allungare il braccio per via del lipoma. Quindi devo prendere la scaletta, la metto qui, e così riesco a raggiungere i ripiani. Non dico quelli in alto, ma quelli ad altezza braccio. Almeno così posso prendere la ciotola. Non riuscire più a fare le cose nel modo in cui le facevo prima, in modo normale, a volte mi fa sentire un po' meno mato. Non mi sento più sicuro di me. Ho difficoltà anche quando mi vesto per colpa della protuberanza. Vivo in Arizona. Se indosso una canottiera si vede. Ovviamente non lo faccio spesso, perché chiaramente io cerco di nasconderlo. Non mi tolgo la camicia in presenza di amici. Non vado a nuotare. Quando vado in spiaggia, tengo la maglietta. Prima metto la canottiera e poi prendo la camicia. Quando metto la camicia, siccome non ho le spalle simmetriche, i bottoni e le asole non sempre combaciano. Cerco di abbottonare la camicia fino a su per assicurarmi che non esca fuori. Non riesco ad abbottonarla tutta, perché il tessuto non è troppo elastico, quindi tira. Si sposta di continuo, quindi passo il tempo a tirare su la camicia. Il lipoma mi impedisce anche di sollevare i pesi. Non riesco a fare le flessioni né i sollevamenti. Non potendo fare certi esercizi, sono fuori forma più di quanto non vorrei.